ciao amici oggi voglio provare a misurare qual è il consumo reale del processore intel i5 11400 in configurazione power limit quindi con la strozzatura di potenza massima erogata dal processore a 65 watt e per far questo utilizzerò un mini pc da salotto che ho per le mani è un acer di cui poi vi lascio i dettagli in descrizione ora per misurare la potenza erogata prenderò in esame i test effettuati con 3d mark che dovrebbero essere test che mettono sotto torchio tutto il sistema e monitorerò le l'andamento della dell'alimentazione in realtà della potenza che il sistema sta erogando con o cct e utilizzerò la pre una presa smart che di cui poi vi lascio i dettagli della meros che integra anche un controllo proprio di potenza in realtà in questo modo riuscirò a monitorare non solo per la potenza che eroga il processore ma in realtà la potenza erogata da tutto il sistema perché tutto il sistema è stato collegato a questa presa smart chiaramente tutto il sistema tranne il monitor quindi mentre vi parlo io procedo alla registrazione anche di quello che faccio sul cellulare e quindi questa è la presa meros che vedete che c'è già la mette in sovraimpressione c'è già un po di potenza il sistema sta già girando forte in realtà questo è dovuto alla registrazione in corso che sto facendo però facciamo partire anche il test di 3d mark non mi interessano i punteggi mi interessa solo mettere sotto torque il sistema che parte male con la registrazione in corso perché ho fatto un test prima e in realtà la potenza toccava a volte 90 ma stava costantemente poi a meno di 90 in questo modo partiamo già con 90 watt e va bene intanto il benchmark sta caricandosi e come vedete su schermo occt mi dà il processore sostanzialmente che sta già girando al massimo secondo me sto facendo la registrazione con una qualità un po troppo alta quindi magari interrompo la registrazione e vi faccio vedere poi in frangenti successivi ecco vedete adesso siamo abbiamo addirittura ha avuto uno spike da segnalato e da occt e anche sul consumo della meros che era arrivata 125 watt un po si sta si sta sforzando parecchio quindi provo a fare una diciamo che quando il processore sta nella intorno a 65 watt il consumo totale del sistema arriva a 90 watt quindi azzardiamo dicendo che il sistema consuma circa 25 watt e quindi adesso spengo la registrazione e vediamo che succede allora la registrazione è stata salvata e questo è il la potenza che viene consumata dall'intero pc diciamo che è più bassa rispetto a prima perché come avete visto prima stavamo costantemente intorno a 90 watt adesso sta girando 3d mark magari sarà noioso però mi interessa vedere insieme a voi quanto sta consumando il tutto negli istanti di caricamento vedete la potenza erogata arrivava a 70 watt adesso che invece sta girando semplicemente il video che è stato dunque già caricato in ram la potenza erogata è bassa cioè sembra stia non dico in idle però sta consumando davvero poco il carico sul processore ce l'abbiamo solo in fase di caricamento della scena ecco il maggior lavoro sul processore adesso quando la scena viene proiettata in pratica il consumo scende scende in maniera significativa ok questo sì in realtà lo vedo anche su occt che in questo caso voi non potete vedere ma fidatevi perché il consumo è sceso in maniera significativa anzi adesso fermo la registrazione e passo sullo schermo così vedete tutto per benino come vi dicevo facendo la registrazione fermando la registrazione dello schermo e facendo andare solo il 3d mark la l'andamento della temperatura della della potenza è cambiato parecchio perché come vedete la potenza è scesa a 25 intorno a 25 watt quando stava proiettando la scena che aveva caricato su 3d mark per poi in questo caso sta risalendo quando adesso che ho avviato la registrazione quindi è assodato che il problema della meglio del problema che ciò che consuma tante energie in questo momento è la registrazione dello schermo il problema è che sto registrando un 4k quindi ci sta e quello che però mi interessava notare che effettivamente la strozzatura della potenza della cpu e sono i 65 watt si vengono comunque fermati dalla software della cpu e il sistema complessivamente arrivava a consumare sotto pienissimo carico un carico comunque abnorme e artificiale perché normalmente se giochiamo se facciamo operazioni pesanti che non siano registrazione dello schermo continua mista a 3d mark credo che difficilmente arriveremmo a consumare costantemente i 90 watt anzi in scenari di gioco come quello che ci proietta 3d mark come avete visto il consumo si assestava su valori più bassi il consumo del sistema del totale quindi mi riferisco alla registrazione della schermo dello smartphone che ho messo prima che vi ho fatto vedere in precedenza